Oltre ai vaccini, gli anticorpi monoclonali sono l'arma in più che abbiamo per la lotta al coronavirus. L'accordo, siglato dalla Regione con Toscana Life Science, conferma la volontà di produrre sul territorio il farmaco ideato dal professor Rappuoli. Partner di TLS è la multinazionale fiorentina Menarini, che produrrà le dosi per la sperimentazione clinica. Siamo davvero felici e orgogliosi di questa collaborazione tutta italiana, dice Lucia Leotti, azionista di Menarini e patrono insieme al fratello Alberto Giovanni. Oggi è in programma un nuovo incontro tra il ministro dello sviluppo economico Giorgetti e Farmindustria per cercare la strada per la produzione in Italia del vaccino. La sospensione dei brevetti non è la strada giusta, dice Leotti. I tempi con cui le aziende sono arrivate a questi vaccini rappresentano un risultato pazzesco, impensabile, su cui nessuno avrebbe scommesso. E invece le aziende sono riuscite a portare a disposizione dei pazienti di tutto il mondo vaccini in 8-9 mesi. Per fare questo hanno investito centinaia e centinaia di milioni. Nessun farmaco è mai stato prodotto in miliardi di dosi tutte insieme e non è possibile avere all'improvviso tutte le tecnologie e il personale formato. Si sta già chiedendo alle aziende di investire nei vaccini per le prossime varianti. Chiaramente a loro rischio e pericolo, dice ancora Leotti. E nel frattempo che si fa? Si toglie loro il brevetto su quanto già raggiunto? Allora, diciamo che i vaccini ci sono perché qualcuno ha rischiato e investito per rapportarli ai pazienti. E se non si riconosce la proprietà intellettuale, il rischio è che nessuno investa più.